Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video Allora oggi sono qui per la terza volta di fila il che veramente non mi pare vero perché forse ho trovato la mia dimensione su Youtube ed esco finalmente a farvi dei video diciamo senza farvi aspettare troppo e come vedete oggi sono in una location diversa e questa è la camera del mio ragazzo come si potrà notare da tutte le cose di Star Wars che ovviamente non sono mie e tutte le collezioni di film che ovviamente non sono mie e sono qui oggi e lui è andato a lavoro adesso quindi sto approfittando prima di uscire per girarvi il nuovo video che è un altro video recensione se avete avuto modo di iscrivervi già al mio canale o se avete avuto modo di vedere il mio precedente video ho già fatto un video di questo genere con Memoria di una Gesha che ho letto la settimana scorsa che sono finito di leggere la settimana scorsa intanto io mi accomodo e quindi ho adesso concluso il nuovo libro che stavo leggendo che è Il gigante sepolto di Katsuo Ishiguro eccolo qui eccolo e ho deciso di farvi anche di questo un nuovo video allora devo un attimo cercare di capire come sistemarmi perché vedo che ho la luce dietro quindi forse se mi giro così mi vedete meglio ok ok mi vedete un po' in ombre in realtà però va bene facciamo che va bene così tanto sapete che qui sul mio canale non possiamo pretendere la qualità quindi se cercate video di qualità dal punto di vista della grafica forse non sono proprio la youtuber più adatta però comunque se invece cercate video dove appunto si parla di libri o cose del genere e non vi interessa prettamente la qualità della videocamera allora siete nel canale giusto allora dicevo sono qui oggi per farvi questa video recensione sull'ultimo libro che ho letto che onestamente non mi è piaciuto allora questo il gigante sepolto non me lo immaginavo così cioè onestamente poi ricordandomi la trama forse era ovvio che fosse così però non non mi è piaciuto e credo che mi abbia anche dato una bella diciamo notizia tra virgolette se vogliamo chiamarla così perché ho scoperto di odiare fantasy medievali cioè già sapevo che non mi piacevano particolarmente io non sono una grande amante del signore degli anelli non sono ho visto finalmente lo Hobbit e ho visto primo del signore degli anelli ok non è proprio il mio genere di film e non so neanche se sarà il mio genere di libro onestamente credo di non aver mai letto altri fantasy medievali forse l'unico è gli occhi del drago di Stephen King ed ho letto quando ero piccina quindi non so non avevo però mai diciamo che nella mia libreria non ci sono tanti libri di questo genere anzi forse non ce ne sono proprio e forse il gigante sepolto è il primo libro di questo genere e devo dire che probabilmente non è il mio genere quindi sono un po' spaventata perché era mia intenzione leggere l'Hobbit perché comunque il film mi è piaciuto parecchio però ecco adesso sono un po' frenata perché non so se effettivamente possa piacermi o meno perché ho fatto veramente veramente tanta tanta fatica a finire di leggere questo libro e vi giuro non vedevo l'ora che finisse a un certo punto sono arrivata alla fine pensavo fossero 310 pagine invece ne erano 320 quando ho girato 310 ne mancavano ancora altre 10 volevo veramente suscitarmi detto adesso lo butto e non lo finisco neanche per 10 pagine però alla fine ho resistito ce l'ho fatta e quindi sono qui per farvi questa video recensione allora innanzitutto vi parlo un po' della trama come avete capito è un genere fantasy medievale ci troviamo diciamo in villaggi vicino Camelot anni dopo la morte di Re Artù e in uno di questi villaggi vivono i nostri protagonisti che sono Axel e Beatrice due una vecchia coppia di sposi che appunto vive all'interno di questo di questo villaggio ancora molto rudimentale perché comunque ci troviamo appunto in un'epoca che è appena successiva a Re Artù e questi due la cosa particolare di questi di questo romanzo e ciò attorno a cui poi gira tutto il mistero che lo rende un po' Dio chiamarlo giallo sarebbe cioè fare un peccato però nel senso che comunque abbiamo anche qui un mistero da risolvere e questo mistero è una nebbia che si aggira nella contrada e che sembra rubare i ricordi di tutte quante le persone che lì vivono infatti Axel e Beatrice non ricordano molte cose del loro passato e non ricordano a momenti neanche come si sono conosciuti sanno solo di amarsi di essere una coppia di aver vissuto insieme tanti anni e di aver avuto un figlio però onestamente non ricordano dettagli più vividi del loro passato insieme e questo proprio a causa di questa fantomatica nebbia che sembra portare via tutti i ricordi loro sanno quindi di aver avuto un figlio ma questo figlio non vive con loro e sono entrambi convinti che si trovi in un villaggio poco distante e quindi decidono di partire verso questo villaggio per andare a ricongiungersi con il figlio e magari scoprire attraverso lui una verità che magari non non ricordano il motivo per il quale lo abbiano allontanato se c'è stata una lite o se semplicemente lui ha deciso di prendere una strada diversa dalla loro quindi loro non lo sanno decidono quindi di intraprendere questo viaggio per andarlo a trovare tutto il libro quindi si svolge in questo seguiamo appunto questo viaggio fatto da Axel e Beatrice e durante questo viaggio incontriremo ovviamente altri personaggi e i principali sono Messer Wistam che è un cavaliere che è stato mandato nella contrata di Axel e Beatrice per una missione molto importante Edwin che è un ragazzino che viene salvato da Wistam perché era stato catturato da degli orchi e abbiamo infine Ser Galbano che è un cavaliere della vecchia guardia di Re Artù nonché suo nipote e questo vecchio cavaliere aveva avuto tempo addietro e ancora sta cercando di portare a termine un compito molto oneroso che è quello di uccidere il drago Kerrig che la leggenda narra sia in queste terre e abbia disturbato molte volte i villaggi che appunto qui vivono questa è un po' la trama generale della storia quindi come vi ho detto seguiremo il percorso fatto da Axel e Beatrice in questo viaggio per raggiungere il villaggio vicino al loro per andare a ritrovare il loro figlio allora a me come vi ho anticipato il libro non è piaciuto perché non mi piace come è scritto cioè non è scritto male attenzione perché un libro che è proprio scritto male non riesco neanche ad andare avanti però mi ha annoiata molto diciamo che ci sono alcune parti in cui ho fatto veramente tanta fatica a seguire il filo del discorso perché che cosa succede che praticamente lui usa flashback all'interno della narrazione senza che tu riesci a capire quando inizia il flashback quando finisce il flashback quando torniamo al presente quando siamo in un ricordo quando siamo in una considerazione che potrebbe avvenire nel futuro è tutto molto confuso quindi veramente ci voleva una grande attenzione per seguire cioè ci vuole una grande attenzione per seguire il filo logico di questo romanzo e di alcune parti specialmente ma soprattutto è difficile rimanere concentrati perché il libro appunto mi ha annoiata quindi c'erano certe volte in cui leggevo interi paragrafi dovevo tornare indietro e rileggerli perché sicuramente mi ero persa qualcosa perché era talmente noioso che non riuscivo a seguirlo altra cosa che non mi è piaciuta sono i personaggi perlomeno Axel e Beatrice li ho trovati fastidiosi sin dall'inizio soprattutto perché si chiamano lei è sempre lì a chiamarlo per nome ci sei Axel Axel se qui Axel Axel e lui a ogni frase dice principessa 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 cioè è carino la prima volta la chiamano principessa può essere carino se lo fa ogni tanto ma a ogni frase dire principessa 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 insomma diventa stucchevole oltre che noioso e pesante da leggere i personaggi che ho preferito di più e questo forse vi fa intuire quanto non mi sia piaciuto il libro sono due personaggi non secondari di più che sono il drago Kerrig che viene praticamente solo nominato e il cavallo Orazio che è il cavallo di Ser Galvano per il resto ecco niente quindi questo libro non mi è piaciuto se devo dargli una valutazione gli darei un 5 su 10 che comunque non è una valutazione accia accia perché avrei potuto fare peggio però non si è meritato la sufficienza non è un libro che leggerei è un libro che consiglierei agli amanti del fantasy medievale questo sì probabilmente se vi piace magari questo genere tipo Signore degli Anelli o comunque questi fantasy con orchi draghi e cose del genere probabilmente può essere il libro adatto a voi e ve lo consiglio altrimenti se siete come me che è andata alla ricerca comunque o di una storia d'amore o di un mistero molto più fitto rispetto a quello che c'è in questo libro perché sì c'è il mistero perché dobbiamo scoprire questa nebbia che cosa la causa dobbiamo scoprire che fine abbia fatto il figlio di Axel e Beatrice dobbiamo scoprire qual è la missione di Sir Galvano qual è la missione di Master Whiston ma sono tutte cose che vengono talmente tante rilasciate in secondo piano che quando poi le scopri non c'è stata quella suspense che ti dice oddio avevo pensato questo invece è un'altra cosa perché alla fine tutte le cose sono abbastanza banali se vogliamo metterla così cioè non c'è quell'effetto oh wow oh cavolo non l'avrei mai creduto cioè sono tutte cose alle quali puoi arrivare benissimo da solo quindi niente questa è la mia videorecensione su questo libro adesso sto leggendo Il Circo della Notte e di quello al momento ho letto le prime 30 pagine mi sta piacendo molto nonostante sia scritto in terza persona al presente che non è proprio uno stile che mi piace però l'autrice sembra molto brava e la trama è molto originale quindi sicuramente farò una videorecensione anche di quello e sicuramente mi piacerà di più rispetto al Gigante Sepolto anche perché rispecchia più probabilmente il genere che mi piace leggere quindi niente io adesso vi mando un bacione se non riuscite a fare un video di inferiore ai 15 minuti il che è un record e vi metto nel box informazioni il link per seguirmi su Instagram il link per seguirmi su Wattpad dove pubblico storie quindi venite a seguirmi su entrambi i social perché mi farebbe veramente tanto piacere e vi ricordo anche di iscrivermi al mio canale al momento siamo in pochini ma confido nel fatto che potremo crescere e diventare una bellissima famiglia quindi non siate timidi iscrivetevi al canale e lasciatemi qualche commento con qualche video che magari vi piacerebbe vedere o qualche libro di cui vi piacerebbe avere la recensione e io mi premunirò di farvelo adesso vi mando un bacione e ci vediamo presto ciao ciao